Se la violenza diventa una forza inarrestabile Che diavolo sta succedendo? Non ho mai visto una cosa del genere La lotta per la sopravvivenza Hanno proclamato la legge marziale Non solo qui ovunque Si trasforma in una battaglia per la libertà Questo non è un attacco, questa è un'invasione E l'istinto diventa l'arma più pericolosa Fuori la situazione è grave, dobbiamo andarci da qui Per il ciclo cielo nero Bushwick Domenica alle 21.15 su Cielo Domenica alle 21.15 su Cielo